allora allora senti un po conosciamoti un po meglio intanto di dove sei tu esattamente napoli abruzzo no dove napoli dov'è che sei lanciano lanciano ok 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 quindi ok ok e com'è che sei iniziato a fare il cast perché soprattutto che cosa ti ha iniziato sempre legato a fifa a fare qualche paio stato sempre con questo campionato che ho fatto di la nazionale e quindi mi ritrovato a fare un paio di partite poi casualmente era entrato c'era il live un amico mio stava giocando venisse da fare streaming erano tre persone tre quattro persone è entrato in chat un organizzatore d'eventi uno che organizzava diventi ai tempi che facciamo il tormenta di venti diventi e detto che voleva cercare le casse di fare i streamer minori io ho detto ma potrei iniziare perché no ma tu già comunque giocare e conoscevi league of legends in quel periodo mi stavo proprio infognando per il periodo del covid diciamo per il periodo là perché altrimenti l'ho iniziato a giocare il 2014 abbandonato subito perché mi sta facendo schifo dove sono cambiate le cose guana ma quindi prima ero praticamente sano poi ho detto ok dovevo mi devo far male iniziando a giocare league of legends però mi sono ritrovato poi questo punto iniziamo e mi sono ritrovato proprio all'inizio assieme a carlotta ho iniziato un pochettino così e poi pian piano è proprio datata sì sì breganti iniziato assieme lei forse ha iniziato un po prima poi con la conoscenza di filippo e trulian ci siamo ritrovati avere tanti consigli da parte sua ne abbiamo avuto abbia fatto allenamenti abbiamo avuto tanti colloqui di nasi fanno queste cose in questo modo è proprio stato proprio lì che abbiamo anche deciso quali erano i ruoli perché io volevo in realtà avevo mai iniziato a play play non mi stava piacendo ok ok proviamo insomma e quindi da lì o perché non ti stava piacendo perché più hai scelto il coro per questa cosa è molto importante da sentire perché non mi piace come ruolo è tipo la top lane per me capito non mi piace se non gli piace lo faccio ogni tanto capita che torni minori che ho fatto mi è capitato ultimamente di fare però non so dare quel tono di voce che ci vuole quell'espressività che ci vuole per fare il proprio play ho capito ma domanda da parte di session ha mai fatto qualcosa di dnd o hanno preso il nome tanto per prima erano organizzatrice le venti dal vivo poi quarantena e sono iniziati avevano iniziato a fare tornei e hanno iniziato puoi entrare dentro il tormenta proprio all'inizio quindi all'inizio poi dopo tutto questo percorso abbiamo iniziato a fare l'herald tormenta e l'anno scorso poi siamo dove siamo abbiamo avuto la possibilità di cassare qualche dragon da pg e poi siamo arrivati insomma a lucca e a milano dell'anno scorso quindi il percorso è stato questo tornei minori tormenta e ora giustamente siamo arrivati a provare